Siamo arrivati al nostro destino finale, il Brasile. Siamo a Rio de Janeiro, un carnaval di freddo e colori. Il grande finale finisce con il Brasile. Siamo arrivati ad un grande spazio in Rio de Janeiro, ad un fantastico brasilianico carnaval, una festa di freddo e colori. Finale carnaval di Rio, in freddo e freddo. L'ultima destinazione è il carnaval di Rio, una festa di freddo e colori. il Brasile che cons epidemic, nei freddo S. Del fatto il Brasile. E,unter late dell'Abrero Ciglio, una festa dell'Abrero Ciglimane L'Freddo Slay L'Abrero Ciglio, il Lecce, ilra b beglio mia. Siamo arrivati a vedere e vassalti e freddo o altro, e sono arrivati all'abbų nuotica e qui inizia in P ridicolo, Grazie a tutti Non basta animare, lo che io voglio è samba Questo samba che è misto di maracatu E se basi un petto vero, se basi un petto vero Mas che in Natale, non sape come è so tanto legal Você non vai querer che io chego al final Aprende in Natale Aprende in Natale stories Aprende in Natale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.